Eccoci qua ragazzi, siamo sul Pokémon Link Come potete vedere io ho salvato il gioco Pokémon Castel Vanità Quindi si parla di Pokémon X o Y, in questo caso Y perché io uso quello Perciò i reggi sono ottenibili anche sulla prima parte dei giochi di sesta generazione, appunto X e Y Perciò colleghiamoci al Pokémon Link Vuoi ricevere i dati del Pokémon Link? Assolutamente sì Ricezione dati in corso I dati di banca Pokémon sono stati ricevuti Come potete vedere nell'elenco delle cose ottenibili Troviamo Regirock, Regice, Registile, un regalo per me Ah sì, giusto, i punti lotta che prima mi sono preso quando ho spento Allora, trasferimento completato Ora non ci resta che andare a vedere le nature, le statistiche e le abilità soprattutto di questi tre regi Perché prima non ve l'ho detto ma c'è una particolarità Andiamo a vedere Perfetto, eccoci qua, siamo nel centro Pokémon Andiamo perciò a vedere i nostri tre Pokémon ottenuti attraverso la Pokémon banca Abbiamo Regice, natura docile Registile, natura gentile E Regirock, natura ardente Tutti e tre i regi sono a livello 50 E hanno delle mosse molto particolari Perché vedo che Regirock ha gelo pugno Questo non lo sapevo, ha gelo pugno Registile ha l'attacco frana, gravità Wow, metal testata E Regice ha grandine e fulmine Wow, veramente No, questo veramente, sono sorpreso Sono veramente delle belle mosse E hanno le abilità nascoste E questa è la loro particolarità Regice ha l'abilità corpo gelo Registile, metal leggero E Regirock ha l'abilità vigore E che lo rende un ottimo leader Un ottimo Pokémon con cui cominciare la partita Per mettere le entry hazards Nel caso del nostro Pokémon picco Le Stealth Rock, ovvero l'evito roccia Andiamo a vedere le loro statistiche Come tutti i Pokémon leggendari Che si possono ottenere nella sesta generazione Hanno tre eaves a 31 Per esempio Regice a occhio Vedo che ha l'attacco speciale La difesa speciale E l'attacco, se non erro Anche a 31 l'attacco Registeel ha l'attacco speciale L'attacco fisico E anche forse i punti salute Vorrei dire, forse A occhio andiamo a vedere Le loro caratteristiche La difesa speciale Abbastanza superficiale Alza la difesa speciale Mentre Regirock Ha l'attacco al massimo La difesa E i punti salute Perché fa più 33 Quindi va a 187 Che è il massimo che possono avere i Regi Al livello 50 Benissimo Oltre ad avere le abilità nascoste E che vanno a sostituire Quindi le loro abilità primarie Che sono per tutti e tre Corpo chiaro Hanno anche delle mosse speciali Come Gelo Pugno Per Regirock Frana e Gravità Interessante Gravità Su Registeel E Fulmine Per Regice Comunque Il video finisce qua Rimanete Sintonizzati Su Slurpuff Channel Perché le novità Non sono assolutamente Finite Sintonizzati